Acqua di carciofo e limone per eliminare gli eccessi di acido urico dal corpo L'acido urico è una sostanza che si produce nell'organismo quando si realizza la scomposizione delle purine degli alimenti. Le cellule lavorano per dissolvere questo elemento, farlo scorrere nel sangue e, in seguito, eliminarlo grazie ai reni. Questi organi filtrano il sangue e, insieme ai liquidi, eliminano le sostanze di scarto tramite l'urina. Tuttavia, quando si produce un accumulo eccessivo di acido urico o il corpo ha difficoltà ad eliminarlo, si sviluppa una condizione chiamata iperuricemia. . Esso infiamma i tessuti e, con il tempo, può formare dei cristalli duri che influiscono sulla salute dei reni e delle articolazioni. Per fortuna ci sono ingredienti di origine naturale le cui proprietà favoriscono il processo di disintossicazione per rimuovere questa sostanza in maniera ottimale. . In questa occasione vogliamo condividere un rimedio a base di carciofo e limone, due ingredienti alcalini che risultano molto efficaci contro questo problema. Provatelli. . Acqua di carciofo e limone per eliminare l'eccesso di acido urico. L'acqua di carciofo e limone è una bevanda depurativa divenuta popolare in tutto il mondo grazie ai molteplici benefici che apporta all'organismo. . Povera di calorie e ricca di vitamine e minerali, si tratta di un complemento nutritivo che contribuisce a perdere peso e a regolare i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue. . Le sue proprietà digestive vengono sfruttate per trattare malattie infiammatorie, come quelle causate dall'accumulo di acido urico. Inoltre, presenta potenti antiossidanti che contribuiscono ad inibire il danneggiamento cellulare per prevenire malattie causate dal deterioramento precoce dei tessuti. . . Benefici del carciofo per combattere l'acido urico. Il carciofo è un ortaggio particolarmente sano che, grazie al suo elevato contenuto di nutrienti essenziali, viene usato come alimento medicinale ormai da moltissimo tempo. Contiene notevoli quantità di. . 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 Quando saranno pronti, aggiungete il succo di limone e lasciate risposare fino a quando il liquido non raggiungerà una temperatura sopportabile per essere assunta. Filtratela, versatela in un bicchiere ed assumete l'acqua di carciofo e limone mezzora prima dei pasti principali. . Ripetetene il consumo per due settimane, come parte di un piano di disintossicazione per eliminare l'acido urico. Una volta depurato il corpo, bevetelo come rimedio preventivo due o tre volte alla settimana. . Il consumo di questa bevanda vi aiuterà ad eliminare l'acido urico e a combattere allo stesso tempo l'eccesso di peso. . Tuttavia, è necessario limitare anche il consumo di alimenti ricchi di grassi e purine poiché, per ovvie ragioni, possono interferire con gli effetti di questa bevanda. .